Ciao, nel video di oggi vediamo due tocchi sbagliati che molto spesso gli uomini fanno in discoteca quando si approcciano in quelli che sono i loro primi momenti con la ragazza. Io sono Gio Dio Renzo e questo è SeduzioneAttrazione.com Ok, praticamente abbiamo questi due tipi di problemi quando gli uomini nella media approcciano una ragazza in discoteca e questi sono tutti e due ricorda relativi a quello che è il primo tocco con cui tu ti approcci la ragazza e questo è molto importante perché quello che succede è che se tu commetti uno di questi due errori cominci così invece che così, se capisci la citazione. La prima problematica nel momento in cui tu ti approcci una ragazza, molti uomini si approcciano a una ragazza è quella di essere estremamente moshy, quasi gay e fare un tocco del tipo Gio Dio Renzo e un attimo verso di me Amanda, no, non era questo il tocco è un qualcosa del tipo quindi come vedi in tensione, semplicemente con i polpastrelli quasi e di conseguenza non comandi nessuna attenzione e nessun rispetto da parte della ragazza quello che invece tu vuoi fare semplicemente per cogliere l'attenzione della ragazza è farlo in maniera decisa e non c'è altro modo per descriverlo e qui cercherò di mostrarti con la telecamera ma c'è un limite ti mi presenti e quindi vorremmo fare una cosa di questo tipo ma non vuoi né stringerla troppo perché questo farebbe quasi sembrare che stai overcompensando né essere troppo morbido, quasi come se la stessi strofinando quindi un qualcosa di più deciso, non c'è un altro modo di descrivere questa cosa l'altra cosa che tu vuoi tenere in considerazione è che nonostante potrebbe venirti la tentazione di farlo anche a fronte del fatto che molti ti consigliano di essere dominante che è un qualcosa giusto a livello di principio quello che tu non vuoi fare è fare un qualcosa di questo tipo perché è troppo eccessivo all'inizio e quindi massimizzi quelle che sono le chance che la ragazza non reagisca in maniera positiva e poi ti ritrovi ad avere a che fare con una missione di recupero sin da inizio e un'altra cosa che tu vuoi considerare è che se tu in realtà provi a essere dominante ma mischi questo tipo di tocco con una roba del genere viene qualcosa di veramente obrobrioso da stare a guardare ok, una seconda problematica che tu vuoi considerare è quella che molto spesso molti uomini si trovano in tensione muscolare nel momento in cui approcciano la ragazza con il tocco e quindi vedrai in discoteca molte cose di questo tipo quindi lei è qui, praticamente di fronte a te, tu arrivi si spera, quantomeno se la discoteca te lo permette quelle che sono le persone che attorno te lo permettono arrivi e quindi subito hai una tensione muscolare non so se vedi che sto cercando di, come dire, simularti il più possibile la tensione muscolare nel mio braccio e questo subito è un qualcosa che subcomunica a ragazza la tensione che tu stai provando e quello che tu vuoi fare, quindi, semplicemente è sfruttare un principio che viene definito ping, tecnicamente cosa significa? quando tu sei in un locale notturno è fondamentalmente, assolutamente normale che tu ti muova all'interno di questo perché le persone stanno ballando, ok? cosa significa? che se io faccio anche un micropassetto verso Amanda lei avrà una microreazione che potrebbe essere di chiusura? non è più chiusa, si è sciolta ma quello che succederà molto probabilmente è che tu puoi ok, sarebbe una cosa di questo tipo e in questo caso io so semplicemente che mi devo ritrarre e magari l'approccio solo verbalmente, ok? se io mi avvicino a lei a una reazione positiva a livello di espressività facciale ok so che a questo punto posso andare però vedi quant'è la differenza fondamentalmente quando mostro, cioè quando creo questo angolo a 90 gradi versus quindi quello che tu vuoi fare è capire che in una situazione ideale vorrai sempre tenere il tuo braccio a 90 gradi nei suoi confronti ora la problematica è che se tu non ti abitui a rompere in discoteca quelli che sono gli spazi difficilmente puoi fare una cosa del genere perché ti troverai sempre a una distanza di scurezza per così dire quindi tu vuoi imparare a capire e questo te lo puoi insegnare solo l'esperienza guardo la ragazza faccio un passo in avanti lei fa un primo cenno perché sa quello che sta succedendo e a questo punto tu da quello che è il suo primo cenno decidi cosa fare se approcciare la ragazza solo verbalmente oppure utilizzare il tocco tanto in quel momento lei ti ha già visto sei già in quella che è la sua zona visiva stop non scappare subito primo ricordati di iscriverti al canale secondo vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo in questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo quindi clicca il link a destra per accedere a questi video ciao da Joe di Seduzione Attrazione